A mezzanotte 10 sono entrati, a mezzanotte 13 sono rotolati fuori. Prima hanno forzato la saracinesca, poi a spallate hanno buttato giù la porta ed infine hanno fatto incetta di occhiali griffati. È successo nella notte tra venerdì e sabato attorno alla mezzanotte in zona Giotto ad Arezzo. Un colpo messo a segno ai danni di un'ottica. Un ride lampo nel giro di tre minuti, infatti, i banditi sono riusciti ad introdursi all'interno dell'esercizio, scegliere accuratamente gli occhiali da portare via, svuotare la cassa e dileguarsi nel nulla. Le bolsine hanno aperto tranquillamente e hanno messo tutti gli occhiali, scegliendoli ovviamente tutti gli occhiali, li hanno messi nella borsa. Chi invece era alla cassa ha aperto la cassa, ha rovesciato il cassetto in un fulare, quello che c'aveva anche lui, e poi nel giro di pochissimo tempo non ci ha lasciato niente dentro, nemmeno i spicciolini, quelli che noi, capito, nemmeno un centesimo fai conto. E poi sono scappati, sono rotolati sotto le serrande. Io credo che ci fosse un terzo complice perché poi non si vede l'aria furtiva e se ne sono andati. I due malviventi sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Quando le guardo mi viene l'angoscia, mi viene la rabbia perché non si fa questa cosa, non è lecito. Ecco, psicologicamente ti lascia, è deleteria, è davvero deleteria. I banditi si sono dati alla fuga con un bottino da alcune migliaia di euro. Al di là del danno, quello di soldi economico, ti hanno fatto un danno che poi non ci sarà assicurazione, non c'è assolutamente niente che ti paga, che è la tua tranquillità nel tuo negozio e che comunque sei tutelata. Questo veramente manca.